Per viaggio, perché Monreale? Cosa ci fa a Monreale? Perché Monreale mi è tanto a cuore anche, è la cittadella dove sicuramente il Signore ha operato nella mia anche gioventù, nel mio momento giovanile, come l'ho vissuto sia nel momento nella città di Palermo ma anche in questi luoghi, perché il Buondì ha voluto che io venissi a abitare e a vivere anche in una frazione proprio che si chiama Aquino. Da qui questo luogo comincia a maturare qualcosa, un'attrazione, un'attrazione, in un momento delicato della mia gioventù che sì, ero cresciuto come tanti giovani anch'io pieno di spensieratezze, ma anche pieno di tanti sogni e progetti, come tutti i giovani fanno ma qualcosa ha voluto rallentare questa corsa. Ero preso troppo dal materialismo, dal consumismo e come tutti i giovani potete immaginare ho rischiato di perdermi, ecco per le vie, quante vie ci sono qui nella nostra città, tante sono le vie. E qui c'è stata una riflessione, perché ho perso come la speranza, ho perso il sorriso, vedere una società che corre, pensa a se stesso e lascia indietro i più deboli. Questo mi ha fatto tanto male, vedere tante persone dormire alla stazione, per strada, abbandonati, nelle ville, nei giardini dove ci andavamo a divertire, nelle panchine, alla ghiaccio. Lo vedevo nei quartieri, l'ho visto nelle grandi città, anche quando mi andavo a divertire, partivamo. Ecco, ho visto tanta sofferenza. Ecco, questo divario, di chi troppo e di chi niente. Io ero anche in quella parte dove non mi mancava niente. E anzi ero pieno, ecco, di tante cose. E poi mi lamentavo, avevo sempre qualcosa da dire, questo non mi piace, questo non lo voglio, volevo sempre di più. Ecco che qui ho detto basta, non condivido una società in questo modo, non l'accetto. Ma non fui capito, sono stato emarginato, messo da parte, perché quando parli dei poveri, ecco degli emarginati, si è visto strano, ridicolo. Non è argomento che fa parte di questo modo di vivere. E allora ho detto no, io preferisco starmi nella mia stanzetta, dove ho cominciato a scrivere, dove ho cominciato a riflettere e a pensare, di dare una svolta alla mia vita. Ma come? In che modo? Io non avevo ancora coltivato la fede. L'avevo ricevuta da mia mamma, da mia famiglia, però poi avevo messo da parte tutto. Avevo messo da parte tutto, mi ero fatto pure non credente, ateo. Ma non stavo bene, ero triste, ero triste, mi mancava qualcosa, mi metto a cercare, scavo, 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 cerco quella verità che non ho trovato in quel modo di vivere. Ecco che lì mi sono messo in ascolto, ho atteso, ho atteso, e una frase sconvolge la mia vita. Un messaggio, ecco, lo voglio dire in questo modo, perché una sera, come era solito con i miei genitori, a cena, a tavola, vedo scorrere le immagini in televisione dei bambini che muoiono di fame nel terzo mondo. Queste scene mi turbano, tale, ma non è la prima volta che le vediamo, vediamo queste scene, tutti li vediamo, ma quella sera, un nodo alla gola, prendo una scusa ai miei genitori, vado nella mia stanzetta. Non mangio, non ho il coraggio di mangiare, come? Chi muore di fame? Io che c'ho? Mi lamento sempre. Ecco che qui vivo una notte di tempesta, una notte inquieta, una notte di insonnia. All'alba una voce forte e chiara mi dice così. Una società che lascia indietro i più deboli non può essere una giusta società. Prima o poi si sfalderà, crollerà. L'ho scritto, quella mattina, all'alba, scrivo queste parole. Io avevo 26 anni, 26 anni, avevo raggiunto i miei 26 anni. Ecco che in quel momento scrivo una letteratura, cerco di spiegare i motivi, che sento di lasciare tutto, ma è stato Lui, il buon Dio, che mi ha chiamato, non mi ha obbligato, mi ha detto di seguirlo, e io ho sentito nel cuore, questa è la strada, questo è quello che io desidero fare. Ma come fai? E dove? In che modo? In che maniera? Ma Lui, quando tu fai la sua volontà, ecco che Dio ti accompagna. E nella figura di Gesù, che ho avuto il coraggio di chiamarlo Gesù, Lui diventa amico e fratello. E' bastato lo sguardo nel crocifisso della mia stanzetta, che a me me l'avevano dato sin da piccolo, ma io l'avevo trascurato. Ma quella mattina, quell'uomo che vidi nella croce, mi son detto, un uomo che ha dato la vita per gli altri è il vero e il giusto. Da qui diventa amico, fratello. Sento di uscire di casa, l'ho fatto nella sera, dopo la mezzanotte, in silenzio, esco dalle zone, ecco, a Moreale, cioè a Quino, da Quino, e da quella vallata scendo tutta quella zona per risalire fino ai piedi delle montagne. Da quelle montagne non ho dato più notizie. Ma arrivato lì, ai piedi della montagna, guardo i luoghi, riguardo di nuovo i luoghi, di Aquino, di Moreale, la cattedrale, vedo il santuario che è stato quello che mi ha accompagnato. Questo veramente, questo santuario, che sempre mia mamma mi diceva, guarda quel santuario, che la sera si notava illuminato, tutto illuminato, un faro, veramente un faro, e io trovavo conforto, vi devo dire, anche se ero lontano da Dio, ma l'ultimo periodo, prima che io sentivo la chiamata, la mia conversione mi confortava a guardare questo santuario a distanza, ma mai ero stato qua. E allora ecco che do l'ultimo sguardo dalla cattedrale e il santuario, da lì non ho dato più notizie. e lì all'interno di quelle montagne che poi ho scoperto, che si chiamano la Muarda e la Valle del Fico. Una gola che è in linea, in linea con la cattedrale e con anche il santuario, ecco qui il santuario, che poi, non lo sapevo, si scopre che è dedicata a Santissima Adolorata, al Calvario delle Croci. Ma non lo sapevo ancora. Da allora vado all'interno della Sicilia e vivo da eremita. Io che avevo giudicato gli eremiti, le clausure, il Vaticano, giovane come tutti, facile al giudizio, il buon Dio mi chiama a vivere l'esperienza da eremita. All'interno della Sicilia mi hanno soccorso contadini, pastori. E nelle zone di, dopo Enna, Caltanissetta, nelle zone di Val Guarnera, Raddusa, Aidone, ecco che lì mi prendono a cuore, mi chiamano Urrumita, c'è l'eremita, Urrumita. Vivo un anno all'interno di questi luoghi che poi ho sentito nel cuore lasciare e affrontare il viaggio fino a piedi, fino ad Assisi, da San Francesco. È lì che poi nasce il momento dove i miei erano in pensiero, la mia mamma cercò di comunicare, di sapere notizie di questo figlio, perché io da eremita non ho dato notizie. e allora mamma si rivolgeva, ho saputo che si rivolgeva alle varie parrocchie, e tra cui venne fino qui al santuario, al Calvario delle Croci. Venne fin qua, dove incontrò padre Ferina, padre Ferina, che diede conforto questa mamma nel dolore della mancanza del figlio. Questa mamma fu confortata e scese poi giù a casa. Mi racconta, dopo la venuta allora da Assisi, che promisi di andare a salutare i miei, ma ritornare un attimo in questa terra martoriata da tanti mali, da tante sofferenze, ma nel cuore in quel momento mi veniva ad andare in Africa, in India, come missionario, perché le esperienze nel lungo viaggio fino ad Assisi ho condiviso con tanti poveri per strada, abbandonati, con tanti abbandonati, ho condiviso con loro, e lì che ho capito che la missione era dedicare ai poveri. Gesù mi chiamava a dedicare ai poveri. Mai volevo andare oltre, perché un'Italia che mi aveva afferito, deluso, parla sempre, discute, promette, ogni volta, per i poveri, ecco, non c'è mai tempo, non c'è tempo, non ci sono fondi, non c'è quello, non quell'altro. Allora ho detto, me ne vado lì a rendermi utile, ma invece il buon Dio mi ha detto l'Africa è qua, qui c'è tanto da fare. Il tempo di salutare i miei genitori, non sono rimasto più a casa nelle comodità, non ho chiamato più gli amici, sono andato a vivere alla stazione centrale di Palermo, tra i vagoni, le sale d'aspetto, inizia il cammino, la missione. condividendo con loro, aiutando loro, risollevando loro, dalle loro cadute, dal loro abbandono. Non è stato facile, ma lì ho trovato veramente la forza per dare speranza a loro, per dare speranza a loro. E mi sono avvicinato piano, non sono stato invadente, che loro hanno paura, non si fidano più di questa società. Io ho detto loro, ciao, come stai? Sono qua per aiutarti, posso chiamarti fratello? Sorella, è nata un'amicizia tale, che oggi sono più di tre comunità, due maschili e una femminile, da vecchi edifici abbandonati del comune, la regione, sono oggi strutture che accolgono tanti, tanti, più di mille accolti. E ora lavoriamo anche la terra, lavoriamo anche la terra, devo dire, stiamo coltivando, facciamo il pane noi, noi la comunità non rimane passiva, attenzione, perché spesso i poveri si dice che non sanno fare niente, non vogliono fare niente, no, loro accolti, aiutati, sono fautori, tutto fanno loro, che fa le pulizie, cucina, il muratore, il pittore, il magazziniere, ecco, gli trasmettiamo i mestieri, diamo loro la lenza per pescare, lo strumento per lavorare, e il nostro motto è sbracciati e datti da fare, questo è il messaggio prezioso che diamo a loro, a loro non passivi, ecco che la società poi rivede, e non è vero che non sanno fare niente, non vogliono fare, o costano a cattoni di peso, come spesso si giudicano, no, no, loro sono impegnati, bisogna aiutarli, dargli speranza, ecco, dare speranza, noi aiutiamo tutte le persone che in quel momento sono in difficoltà, non si fa differenza di nazione, di religione, di cultura, tutti sono aiutati, la persona, si guarda la persona, non il colore, non la religione. In Morale ci sono tante persone, che giornalmente chiedono anche a noi, che siamo giornalisti, un aiuto. Bravo, bravi, è un momento. Cosa possiamo rispondere a noi? Guarda, è un momento di questa crisi, ecco, quando io mi accorsi allora, quando ebbi il messaggio, una società che lascia indietro i più deboli, non può essere una giusta società, prima o poi si sfalderà, entrerà in crisi. Ecco, è profetico questo messaggio che io ho ricevuto, si riporta a oggi, vedete come sta aumentando la povertà, io credo che questo momento difficile, dobbiamo insieme, unirci, aiutarci, ognuno deve fare la sua parte, non più spettatori, demandiamo agli altri, ma c'è il comune, c'è l'assistituto sociale, c'è la caritas, siamo facili a scaricare agli altri, ma ognuno deve fare la sua parte, e io lo sento nel cuore, ecco che questa società è in crisi, perché non riesce più a donare, non ha tempo per donare, non ha tempo per aiutare, non ha tempo per amare, non ha tempo neanche per perdonare, non vogliamo più perdonare, ecco che noi, donando, dice San Francesco, donando si riceve, ecco che noi dobbiamo aiutare il nostro prossimo, questa società, se noi ci riviciniamo al prossimo, significa avvicinarsi a Dio, io credo che se ritorniamo a Dio, al nostro prossimo, usciremo dalla crisi, e allora diamoci da fare, ecco insieme, io sento nel cuore, questo cammino, ecco che da recentemente, non so se qualcuno è informato, ho sentito portare il messaggio di pace, di speranza, oltre Morreale e Palermo, che ha fatto tutto il giro di queste zone, portando il messaggio con la croce, portando il messaggio di pace e speranza, per tutte le regioni d'Italia, sono state in tutte le regioni d'Italia, per andare incontro alla gente, per dare conforto, dare coraggio, dare speranza, dare speranza, ho detto la speranza non viene meno, come dice Papa Francesco, non vi fate togliere la speranza, ecco la speranza è Gesù, questa è quella che vogliono toglierci, ecco, no no no, noi dobbiamo, ecco, andare incontro alla gente, portare il lieto annunzio, come dice il Signore, portate il lieto annunzio, portate il lieto annunzio ai poveri, a chi è in difficoltà, il povero non è un errore, della vita, un errore di Dio, no no, perché il Signore poteva fare o tutti i poveri, o tutti i ricchi, e invece ha fatto sia ricchi che poveri, insieme, ricchi e poveri insieme, questa società deve rivedere tutto, perché si è creata la spaccatura, tra i ricchi e i poveri, il povero ha bisogno del ricco, il ricco ha bisogno del povero, il ricco ha bisogno del povero, viceversa il povero ha bisogno del ricco, allora io credo che dobbiamo ritornare a Dio, dobbiamo ritornare a Dio, ma anche al buon senso, al buon cuore di ognuno di noi, perché io sono aperto con tutti, chi crede, chi non crede, anche nel cammino c'è chi mi ha detto, io non credo, ma rispetto quello che fai, oh guarda questo dialogo aperto è bello, anche le varie religioni, ho incontrato i fratelli musulmani, ho incontrato i fratelli ortodossi, ho incontrato i fratelli ebrei, ho incontrato i fratelli hinduisti, buddhisti, e tutti aperti, mi hanno anche soccorso, no devo dirvi che non è vero che, lo stani ero, anche i sinti, c'è i nomadi, in una città dell'Italia, non mi hanno dato da mangiare, stessi italiani, una famiglia sinti, mi ha dato, nomadi, chiamati i cosiddetti zingare da noi, per capirci, ci ha dato da mangiare quella sera, a me il fratello che mi ha accompagnato, perché se io ne dice vi mando a due a due, ecco in questo cammino, allora questa è stata una cosa che avevo a cuore, perché i poveri, qui hanno un punto di riferimento, c'è ancora tanto da fare, però le altre città ho sentito andare, nelle varie regioni, e in ogni città e paese, per portare anche conforto, ai tanti poveri, che ho visto nelle grandi stazioni, nelle grandi città, nei paesi grandi paesi, ci sono paesi enormi, anche ecco nelle varie regioni, e lì ho portato il conforto, ma per dire, che dobbiamo, ognuno, abbiamo un compito, ogni città e paese, aprire una casa che accoglie, una mensa, l'oratorio, questo è stato anche il messaggio, che ho cercato di trasmettere, nelle varie regioni d'Italia, e devo ringraziare anche tutti quelli, che mi sono stati vicino, ci hanno soccorso, sono vicino anche, prego anche per quelli che non mi hanno capito, per quelli che mi hanno mandato a quel paese, però posso capire che, ma vedete che anche Gesù, lui passava, andava incontro alla gente, c'è chi la capiva, e c'è chi non lo capiva, chi lo giudicava, anche gli apostoli hanno subito anche le omiliazioni, allora anche questo, però il Signore è sempre pronto, è vicino, anche quelli che non hanno capito, perdona loro che non sanno quello che fanno, e allora sono vicino a tutti, vicino a tutti, preghiamo questa umanità, che ha tanto bisogno, e ora ho sentito nel cuore, ridare il saluto a Moreale, ieri sono stato al Duomo, sono stato al Duomo, e che hanno fatto un momento, il restauro della Madonna di Odigidria, e ho condiviso lì, e avevo a cuore incontrare il Vescovo, e ringraziarlo, il Vescovo Michele Pennisi, sto facendo il giro dei vari Vescovi, per ringraziarli, e finalmente a Moreale, ieri mi ha dato anche la benedizione, e poi sono stato, oltre al Duomo, sono stato alla chiesa di San Francesco, la chiesa di San Francesco, anche lì che spesso vado a pregare, e la via Crucis, che dalla chiesa sale da San Francesco, che allora nel 1800, i cappuccini, fecero la via Crucis, fino a qui, la quattordicesima stazione, non esisteva ancora, eccola, il santuario, ma c'era una cappella, dove, un vostro cittadino, monrealese, Fra Mariano, che ancora, prima di Fra Mariano, Matteo Quartuccio, lui veniva a pregare qua, veniva a pregare, e poi ebbe un momento, l'apparizione della Madonna, addolorata con Gesù, con Gesù sceso dalla croce, e lui da quel momento, sentì dedicare agli ammalati, ai poveri, e sentì anche realizzare, questo santuario, il buon Dio, dopo il lungo viaggio, il ritorno da Sisi, sono venuto qua, e qui ho trovato conforto, sostegno, e devo grazie anche, a Don Giuseppe, che lui, mi dà la possibilità, di ritirarmi dei periodi qua, come eremita, come ritiri, e condivido, proprio nella celletta, proprio di, ecco, di Fra Mariano, condivido molto, allora, dico la città di Moreale, oh vi raccomando, vedete che avete una figura bella, Fra Mariano, no, no, non mettete da parte queste figure, ecco, non pensate che siano solo cose del passato, della storia, perché il Signore è sempre presente, ieri, oggi, e sempre, e allora, questi sono segni profondi, e l'aveva detto, ecco, il buon Dio, alla Madonnina, Madonnina, lo riporta a Fra Mariano, questo sarà un faro, ed è, ve lo devo dire, è un faro proiettato fortemente nella cittadella di Moreale, nella Palermo, nella città di Palermo, e nei vari paesi, Villa Grazia, Altofonte, ecco, fino a Giacalone, tutte, tutte, veramente, tutti questi paesi, frazioni, ecco, c'è come una luce, c'è una luce, una luce di speranza, non per caso, chiamato il luogo, al Calvario delle Croci, e le Croci, qui, sento questo conforto, questa forza, mi ricarico, per portare, questo messaggio prezioso, di pace e speranza a tutti, allora, coraggio, andiamo avanti, ecco che il Signore, ecco, il nostro Gesù Cristo, ci dà la forza, ci dà il coraggio, ci dà la luce, ci dà quella fede, per poter colorare, riscaldare questa vita.